Salve a tutti amici e amiche del Manga Podcast e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Innanzitutto volevo ringraziare le persone che si sono iscritte al canale YouTube e che seguono il podcast su Spotify, senza dimenticare quelle che dedicano parte del loro tempo a scrivere un commento, siete i migliori. Sembra una cosa banale ma per quanto adori scrivere recensioni sulle mie opere preferite avere un riscontro anche da parte vostra è sempre una motivazione e stimolo in più. Detto ciò ed appurato che se siete qui avrete molto probabilmente un qualche tipo di interesse per l'opera che tratteremo direi che possiamo buttarci a capofitto alla scoperta di una piccola chicca rispolverata recentemente da Star Comics. Disegnato dalle abili mani di Ryoichi Kegami e scritto da Yoshiyuki Okamura, meglio conosciuto come Buronson, oggi sono a presentarvi Sanctuary. Come di consueto, prima di fiondarci sull'opera, vediamo di approfondire i due autori, scavando un po' nelle loro vite e cercando di carpire quante più informazioni possibili, al fine di contestualizzare le dinamiche che hanno portato queste due colonne della nona arte giapponese alla creazione di questa piccola perla. Dal momento che il buono Kamura ha due pseudonimi intercambiati spesso durante la sua carriera, durante l'episodio mi riferirò a lui con quello che egli stesso ha utilizzato nella stesura di quest'opera, ovvero Shofu Mimura, in modo da rendere l'ascolto più scorrevole e chiaro. Mani avanti messe, possiamo partire! Entrambi nati durante gli anni 40, Ryoichi Kegami e Shofu Mimura vivono a pieno gli strascichi del secondo dopoguerra. In quel periodo il Giappone è stato occupato militarmente dalle forze alleate, cappeggiate dagli Stati Uniti. Il paese è in forte subbuglio e le riforme politiche ed economiche sono all'ordine del giorno. Durante l'adolescenza sono entrambi testimoni del cosiddetto miracolo giapponese, ovvero quel periodo tra gli anni 50 e 60 caratterizzato da una straordinaria crescita economica, oltre che da un forte moto di ricostruzione socioculturale. In detto contesto, sia i Kegami che Fumimura iniziano a muovere seriamente i primi passi nel panorama fumettistico. Il primo comincia nel 1966, come assistenze, niente po' po' di meno, di Shigeru Mizuki. Mentre il secondo, dopo una breve parentesi nella marina nipponica, trova sistemazione nel 1969 come aiutante di Ryoichi Mitomiya. I due si dilettano per anni, collaborando con vari disegnatori ed autori. Come non citare Okuto no Ken, realizzato da Fumimura sotto lo pseudonimo di Buronson insieme al maestro Tetsuara. Opera con il grande merito di aver cresciuto un'intera generazione di giovani lettori, stravolgendo completamente i canoni del manga per ragazzi. Parallelamente, anche Ikegami presta la sua arte grafica a numerose storie, diventando di fatto una delle figure più riconoscibili del movimento Gekiga. Durante il suo percorso sarà affiancato da grandi autori, tra i quali troviamo anche Kazuo Koike. Sì, quello di Lone Wolf and Cub. Leggetelo. C'è anche una puntata del podcast dedicata. Eh, dicevo. Tra questi autori troviamo Kazuo Koike, che diventerà suo ottimo compagno di pennino accompagnandolo in ambito lavorativo per oltre un decennio. La svolta tra Ikegami e Fumimura avvenne nel 1990, quando i due iniziano a lavorare ad una particolare opera, la cui storia orbita attorno al dualismo tra politica e Yakuza. Sì, stiamo parlando proprio di Sanctuary. Scatta subito la scintilla. Lo stile di disegno estremamente realistico ed elegante del maestro Ikegami si sposa alla perfezione con le storie tinte noir inscenate da Fumimura. È l'inizio di un connubio che si protrarrà per quasi 30 anni, ricco di successi e grandi opere, esempio calzante di come disegni e storia possano esaltarsi a vicenda, creando prodotti tanto unici quanto spettacolari. Ora che abbiamo fatto una discreta panoramica sul background degli autori, direi di passare senza ulteriori indugi alla trama. Ci troviamo in Giappone, a cavallo tra gli anni 80 e 90, sostanzialmente all'inizio di quello che verrà chiamato a posteriori il decennio perduto giapponese. Già nel periodo precedente iniziano a manifestarsi i primi segnali che qualcosa in ambito socio-economico si sta inceppando. Cominciano a diffondersi nella popolazione numerose malattie dovute all'inquinamento acustico ed atmosferico. Le città, Tokyo in primis, devono affrontare innumerevoli problemi di sovraffollamento. Inoltre vengono a galla i limiti energetici dell'arcipelago, che, dipendente dal petrolio, si è ritrovato in ginocchio quando nel 1973 i paesi arabi quadruplicarono i prezzi che limitarono le esportazioni. Ma è con la fine degli anni 80 che l'involuzione divenne irreversibile. Le aziende erano cariche di liquidità, il mercato azionario immobiliare era saturo, gli interventi di espansione monetaria messi in atto per far fronte al depreciamento del dollaro si rivelarono inadeguati. Kaboom! La bolla esplode e il paese del sollevante si ritrova ad un tratto ad affrontare un periodo di forte depressione. Ma forse sto divagando un po' troppo nella storia, quella vera, quella accademica. Malgrado ciò, questo è il panorama che si prospetta al Giappone negli ultimi anni del millennio, e l'uscita di Sanctuary combacia perfettamente con le prime ombre incombenti sulla classe politica giapponese. Avendo vissuto il bello e il cattivo tempo post-bellico, Fumimura percepisce che qualcosa sta cambiando e decide di mettere mano al proprio pennino, creando di fatto una pietra miliare del fumetto nipponico. Siamo a Tokyo. Il Giappone è ancora sulla cresta dell'onda e l'ombra della crisi non è con puntino indistinto all'orizzonte. Tuttavia, sulla cima della Tokyo Tower, davanti ad un cielo poeticamente crepuscolare, due giovani adulti osservano con sguardo risoluto quella tenue oscurità finora assopita. Eleganti nei loro vestiti, Akira Ojo e Chaki Asami percepiscono che un nuovo vento sta arrivando. Al momento è solo una flebile e rinfrescante brezza, tuttavia in entrambi si cela la consapevolezza dell'imminente tempesta in arrivo. Cresciuti insieme, in circostanze decisamente degradanti, al di fuori dell'arcipelago nipponico, Ojo e Asami fanno ritorno in patria in età adolescenziale, dopo aver letteralmente vissuto sulla loro pelle l'inferno della guerra civile cambogiana. Tuttavia, quel che si presenta ai loro occhi è un paese morto, abitato da persone dallo sguardo spento, ingrigito, totalmente diverso da ciò che due bambini sognano, nelle notti buie e sofferenti della prigionia. Quando siamo tornati dalla Cambogia e abbiamo visto per la prima volta i giapponesi, non abbiamo visto speranza. Non abbiamo visto speranza nei giapponesi. Ma cosa manca? Di cosa abbiamo bisogno? Dobbiamo creare una generazione di persone che siano vive. Sono queste le parole che Asami dice tutto incravattato nel suo vestito da politico. Perché sì, Chaki Asami ha perseguito durante tutto il suo percorso di studi un solo obiettivo, entrare in politica. Ogni scelta, ogni azione, ogni parola è stata indirizzata in quella direzione, determinata a sollevare una nuova aria all'interno del Parlamento nipponico. Ojo invece avrà fatto lo stesso? Assolutamente no. Durante gli anni delle superiori, Akira Ojo si ritira inaspettatamente da scuola, entrando di lì a poco, nella Yakuza, la mafia giapponese. Scalando anno dopo anno le gerarchie della Lega Sagara, una delle maggiori organizzazioni malavitose del paese, Ojo cerca di ritagliarsi uno spazio tra quelli che contano veramente. E quando lo incontriamo per la prima volta, lo vediamo nelle vesti di dirigente di una sezione del canto. Ora vi starete chiedendo, perché avranno intrapreso due carriere così diverse? Non sarebbe stato più logico restare uniti, aiutandosi e sostenendosi l'un l'altro? La risposta è impressa nero su bianco tra le pagine magistralmente disegnate dai gagami, parole che escono direttamente dalla bocca di Ojo. Perché sono entrato nella Yakuza? Perché posso fare in un giorno quello che una persona normale può fare in dieci anni. Fin dalle prime pagine, Fumimura ci lascia intendere che i due non sono persone comuni. Estremamente scaltri e intelligenti riescono a dipanarsi tra le intricate problematiche che gli si presentano. Dotati di classe e portamento, inducono una soggezione quasi naturale, determinando di conseguenza una fortissima predisposizione alla leadership. Il Giappone necessita di cambiamento e sappiamo fin dall'inizio che le uniche persone in grado di sostenere tale fardello sono proprio i nostri due protagonisti. Una classe politica troppo in là con gli anni, sostenitrice di geologie estremamente conservatrici e poco adatta in un contesto dinamico, non può sperare di sopravvivere agli stravolgimenti socio-economici futuri. Di pari passo, il mondo della malavita deve evolversi. Sono finiti i tempi in cui i giovani delinquenti si uniscono alle organizzazioni solo per dare sfogo alla propria rabbia repressa. Ci vuole cultura, senza la quale le ideologie periscono e con esse anche la nostra identità di esseri umani. Perseguendo due vie parallele, paradossalmente destinate ad incrociarsi, i nostri protagonisti cercheranno di mettere in atto questa utopistica rivoluzione, entrambi con lo sguardo inamovibile rivolto verso un punto preciso, il loro santuario. Per chi non lo sapesse, il governo giapponese è stato rappresentato per quasi 40 anni dal Partito Liberal Democratico, per la precisione dal 1955 fino al 1993, quando fu sostituito da un nuovo governo di minoranza. Beh, sappiate che Sanctuary è stato pubblicato in Giappone tra il 90 e il 95, come detto prima, nel bel mezzo di questo subbuglio politico. Che sia una mera coincidenza, o meno, purtroppo non mi è dato saperlo, tuttavia il verosimile scenario pensato da Fumimura trassù d'aria di rivalsa e dallo stesso tempo una rassegnazione disarmante. La sfiducia nei confronti della classe politica è tangibile e l'assenteismo alle urne ne è la prova, permettendo quindi alle forze di maggioranza di conoscere in anticipo l'andamento delle elezioni, guadagnandosi il potere tramite alleanze di convenienza. Ojo e Asami ne sono pienamente consapevoli e sono pronti a mettere in gioco la propria vita pur di impedire che il Giappone sprofondi nell'oblio. Il primo passando per il lato scuro della società nipponica, mentre il secondo perseguendo la via della luce. Ma proprio come lo Ying e lo Yang, il nero abbraccia il bianco e in entrambi vi risiede all'interno il seme dell'altro. Parlando di nero e di bianco va fatta una menzione d'onore a chi è maestro nel combinarli, Ryoichi Kegami. La sua straordinaria maestria artistica dona all'opera la maturità e la classe che merita. Le atmosfere crude e realistiche imprigionano il lettore tra le pagine, immergendolo completamente nel mondo corrotto e disilluso pensato da Fumimura. Non sarò la persona giusta per valutare i disegni di un'opera e l'ho sempre detto, tuttavia le tavole di San Quarry sono una gioia per gli occhi. Che sia una dinamica scena d'azione o un dibattito tra parlamentari, il livello di dettagli e la cura delle vignette è impressionante. L'espressività dei personaggi è perfettamente dosata, se troppo marcata avrebbe compromesso l'eleganza dell'opera mentre in caso contrario l'avrebbe inaridita completamente. Trovando quindi il giusto compromesso, Ikegami dimostra che la sua fama ed importanza all'interno del panorama fumettistico giapponese non sono campate in aria, anzi. Tanto di cappello per essere riuscita ad esaltare fino in fondo il complicato mix di intrighi, tradimenti, amore e desiderio imbastito da Fumimura. Come al solito ho finito solo per tessere le lodi nei confronti di un'opera che mi ha dato molto, sia sotto il profilo umano che emotivo. Ciò nonostante devo comunque essere obiettivo ed ammettere che anche San Quarry non è esente da difetti. La cosa che sicuramente mi ha lasciato più spiazzato è stata la gestione del comparto di personaggi femminili, poco influenti a fin di trama e funzionali quasi esclusivamente a scopi erotici. Posso capire che effettivamente nella Yakuza le figure femminili non fossero molto presenti e che in generale la società giapponese degli anni 90 avesse ancora discreti problemi con la parità di genere. Tuttavia solamente una figura si salva evitando l'etichetta di personaggio marginale, direi veramente troppo 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 poco. Un'altra cosa che non mi ha convinto del tutto è stato il rapporto a mio avviso troppo stretto tra Yakuza e polizia. Premetto che facendo un po' i compiti a casa si possono trovare vari episodi di negoziati informali tra forze dell'ordine e crimine organizzato. Ad ogni modo penso sia auspicabile sperare che non sia così forte come nel caso di San Quarry, ma potrei anche sbagliare. Anche alla luce del fatto che in alcune interviste Ikegami ha confessato che Fumimura, pur non avendo mai incontrato la Yakuza, stava ricevendo informazioni e documenti da persone molto vicine ad essa. Quindi tutto può essere. Fatto sta che nessuno di questi punti inficia la godibilità dell'opera. È più per onor di cronaca che ve ne ho parlato, in modo che abbiate una panoramica quanto più accurata possibile. Ad ogni modo lo scopo degli autori è chiaro. Il Giappone sta morendo e il cambiamento è inevitabile. In primis è il cittadino che deve essere responsabilizzato. Come pretende dei diritti deve adempiere ai propri doveri. Solo così un popolo può crescere ed evolversi. Si possono fare tutte le leggi del mondo, ma anche se il cuore pulsa non è detto che il corpo sia capace di muoversi. E quest'opera lo evidenzia con schiettezza, esponendosi a due mondi complicati come Yakuza e politica, dimostrando di avere una marcia in più. Non puntando il dito contro nessuno, ma spingendo tutti ad un esame di coscienza. Perché dovete sapere che Sanctuary non è solo un manga. È una poesia visiva e narrativa che trascende il confine tra arte e letteratura. Tramite le sfumature dei suoi personaggi e la trama intricata, l'opera esplora le profondità dell'animo umano, mettendo in discussione il concetto stesso di santuario come luogo di pace e libertà in un mondo corrotto e caotico. Le parole e le immagini si fondono in un'armonia malinconica, incantando il lettore mediante il forte richiamo al cammino dell'umanità verso la redenzione e la realizzazione dei propri sogni. Questo manga rimane un capolavoro del genere, una danza tra bene e male, speranza e disperazione, incarnando la poetica dell'oscurità e della luce che risiede in ogni attima umana. Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Da grandi opere derivano grandi responsabilità e spero proprio di avervi invogliato a recuperare questa gemma a molti sconosciuta. L'edizione di Star Comics è formata da sei volumi in un golosissimo formato deluxe per poter godere delle sue fantastiche tavole al prezzo di 15 euro l'uno. Non è difficile reperirlo quindi non avete scuse, compratelo, gustatevelo e tornate qui per farmi sapere la vostra opinione. Spero con tutto il cuore che la recensione sia stata di vostro gradimento e vi invito a lasciare un commentino oltre che ad iscrivervi al canale se state guardando la puntata su YouTube e di seguire il podcast se state ascoltando su Spotify. Io vi saluto e mi reimmergo nelle mie mirabolanti letture. Ciao a tutti!